Ciao a tutti amici di YouTube, io sono Frank, io sono Amini e siamo qua per un messaggio molto importante. L'associazione Mondo N, Mondo Nuovo, ha sposato il progetto Nuove Avventure Extraordinarie, un progetto che coinvolge alcuni ragazzi disabili di Mirafiori Sud, nella zona di Mirafiori Sud, praticamente per aiutarli in alcune attività che avranno luogo poi a gennaio e febbraio. Per aiutarli basta andare sulla piattaforma di crowdfunding Eppera per raggiungere il loro obiettivo, perché la prima parte infatti dell'importo è quella che vogliono raggiungere loro e la seconda parte se loro riusciranno a raggiungere la banca CRT li aiuterà nel progetto. Quindi io credo in voi e credo più che altro nelle persone che mi seguono, che prenderanno a cuore e sposeranno questo progetto. E questa è la prima cosa che volevo dirvi. La seconda cosa che volevamo dirvi è che siamo spariti da YouTube per un po' perché stiamo pensando a una revisione del canale e volevamo creare qualcosa di diverso magari dal prossimo anno. Stiamo ancora cercando di decidere se continuare su questo filone oppure no. E ci siamo fermati anche perché purtroppo il tempo si è un po' bloccato, perché c'è stato un periodo che praticamente pioveva in continuazione e non siamo riusciti a promoverci. E un'altra cosa, alla fine di questo video ci sarà il video che io ho fatto per l'associazione Mondo N Mondo Nuovo. Il video serve per lanciare proprio la campagna di crowdfunding. Quindi se non lo vedete qua potete anche trovarlo, se non volete vederlo subito dopo questo video lo potete trovare nel link che vi lascio sotto in descrizione. Questo è tutto, iscrivetevi anche al canale, se lo diciamo così col cuore e ci vediamo presto. Ciao! Ciao sono Daniel e per me è l'estraordinario e divertimento. Sono Danica a nonne, inchierebile al mare e farei barizzo. Sono Federica, ho 23 anni, il mio sogno è di trovare un lavoro, di crearmi una famiglia, un futuro e di amare i cani e di creare una famiglia anche con loro. Ciao, c'è te, è doc? Alla scuola. Alla scuola. Che capiolo. Sono Carasotto Gaetano. Il mio sogno è di andare a scrittore professionista. Ciao, mi chiamo Marianna e io per straordinario mi piace il teatro. Io sono Mario, uso del cassetto e avere una finanziata, una compagna. E' straordinario per me vuol dire tutte le cose, tutte al punto giusto, alla misura giusta, tanto al punto giusto e quando prendere il caffè lungo l'ulta piena. E' straordinario e rendermi utile per questa attività che stiamo facendo. Per me straordinario significa la parola viaggiare, fare nuove conoscenze, anche nuove amicizie. Nuova Aventura Extraordinaria è un progetto di sostegno alla disabilità intellettiva realizzato dall'associazione DB2 Mondo N per facilitare i progetti di socializzazione e aggregazione. Le attività che svolgiamo sono di tipo culturali, sportive, ricreative e coinvolgono una ventina di ragazzi adulti residenti principalmente nel quartiere torinese di Mirafiori Sud. Durante il weekend insieme a educatori e a volontari scopriamo il territorio in cui abitiamo ma soprattutto scopriamo la città di Torino. Il progetto si è trasformato negli anni in un percorso condiviso tra i ragazzi, tra gli adulti, le famiglie, gli educatori, gli animatori, i volontari ma soprattutto siamo diventati amici. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie.